Case private, parrocchie, centri d'accoglienza dedicati e ora anche hotel. Da qualche giorno nelle Marche è stato sancito l'accordo per l'accoglienza anche negli alberghi per quel che riguarda l'ospitalità temporanea dei profughi ucraini in arrivo nella nostra provincia. Ad oggi sono già 12 gli hotel pesaresi che hanno deciso di mettere a disposizione parte delle loro camere. C'è stato un accordo quadro tra l'associazione degli albergatori, la federalberghi regionale e la regione Marche dove sono state messe a disposizione delle risorse per la prima accoglienza proprio per poter dare una risposta all'emergenza quindi in attesa poi che queste persone vengano distribuite nei canali soliti della prefettura e quindi degli appartamenti e delle strutture loro dedicate. Pesaro ha dato un segnale forte, le nostre strutture hanno aderito a questa iniziativa sono 12 gli hotel che alla fine hanno presentato la propria adesione perché in questo momento si parla di un'adesione all'iniziativa poi sarà successivamente invece valutata dalla protezione civile e dalla regione Marche l'adeguatezza delle strutture e quindi tutto il percorso che poi porterà all'ospitalità. Al momento siamo all'adesione volontaria degli alberghi che poi saranno valutati dalla prefettura per quel che riguarda i criteri di adeguatezza all'accoglienza. Intanto però sono stati già individuati i criteri di budget per l'ospitalità. C'è un budget, diciamo ci sono degli importi massimi questo però poi la regione lo confronterà e lo controllerà con la vendita media delle camere negli hotel quindi diciamo è un budget di spesa massimo poi si dovrà andare a vedere quello che effettivamente è la proposta del singolo albergo. Con la Pasqua alle porte e l'estate che si avvicina la categoria ricettiva confida che il gesto di solidarietà possa essere tranquillamente conciliabile con l'accoglienza turistica tradizionale. È una complementarietà soprattutto in questi due mesi in cui ancora la stagione non è propriamente partita e comunque non penso ci sia conflittualità con il turismo che ci aspettiamo nei prossimi mesi. Ripeto, è un gesto di solidarietà da parte degli albergatori.